All'inizio di luglio, insieme a Pierre, abbiamo passato due giorni a Plan de Corones, a Brunico, all'annuale Eurobike Media Days, evento organizzato da Eurobike Germany, dove abbiamo potuto provare alcune biciclette ed accessori che usciranno a breve sul mercato. L'esperienza è stata sensazionale perché ci ha dato modo di incontrare persone altamente qualificate da cui abbiamo potuto imparare un'infinità di cose. In questo video andremo a scoprire le novità introdotte da Magura per il 2020. Dominic Foss, responsabile per le P.I. e social media di Magura. Non ci sono fili. Il sistema idraulico è protetto all'interno del manubrio. I tubi passano all'interno del manubrio e del frame. Cilindro interno di pressione del sistema idraulico. Sistema di connessione dei tubi facilitato in modo da poter rimuovere il manubrio. Lo spurgo può essere fatto senza complessità aggiuntive. In caso di rottura le manopole possono essere sostituite molto facilmente. La nostra verità ha segnale è possibile. Il sistema idraulico dieters Yearsago e di avere persone 3. La SILVIA 4. 5. 5. 6. 7. 7. Pugniamo il bottone, poi il ruolo si apre e compresa la posizione Il livello dei frecchi, questo è il MCI Questo è il MCI, se lo comparisci con gli altri è il livello più alto Ciao a tutti, oggi day 2 a Eurobike Media Days Siamo fuori con due bici che sono veramente due bombe Due bici veramente molto speciali A sinistra abbiamo una KTM Prowler che monta sospensioni da 150 all'anteriore e al posteriore Rivestimento Kashima, ha una Fox Factory, steri 36 pollici Cambio XTR Shimano, top di gamma È una bicicletta chiaramente in carbonio, sensazionale, leggerissima Le ruote sono da 29 pollici e le geometrie sono tipiche da All Mountain In discesa sul Tecco mi ha regalato piacevoli sensazioni Alcune critiche arrivano dal fatto che il movimento centrale è un po' basso E questo a volte fa picchiare le piedivelle sulle rocce Da quest'altra parte invece non abbiamo una Magura Perché Magura non fa frame I frame sono stati fatti da Rothfield Ma la particolarità di questa bicicletta è che non ha fili Fili tutti integrati I framing sono MCI 7 Che sono veramente il top di gamma di Magura Come vedete abbiamo il cambio elettronico Tenendo premuto la scalata e il coltino E poi abbiamo il comando remoto per la sella telescopica E dopo averci un punto pulsante Veramente una bicicletta bomba Personalmente penso che Magura abbia visto lungo E che ben presto vedremo parecchi cockpit allinearsi a questo nuovo trend Amo le linee pulite e la serva di fili davanti al manubrio Ho sempre ritenuto che in qualche modo un giorno o l'altro sarebbero spariti Ed ecco qui che Magura arriva con il suo nuovo concetto MCI